Dal blog Nuovo Attacco di Grillo, con Juncker commissario, Renzi è sconfitto nell'Unione, scrive Juncker è come Attila, dove passa non cresce Europa. E ieri sera a Livorno, per leader 5 Stelle, prima uscita pubblica dopo il voto. Cerchiamo di fare una partita a stati con chi detiene il potere, vediamo come reagiscono e poi faremo la più grande opposizione che hanno mai visto in questo paese, ancora di più. Questi dunque gli aggiornamenti politici di oggi, intanto sono tanti i messaggi di auguri arrivati al Presidente della Repubblica, che oggi compie 89 anni.